non li ha inventati miller integrator l'integratore di miller è un circuito integratore ad ampia gamma che dipende per il suo funzionamento da una capacità collegata tra l'ingresso e l'uscita di un amplificatore invertente come ha fatto john milton miller 1882 1962 ad inventare i circuiti fondamentali per oscillatori a cristalli di quarzo commento miller non li ha inventati li ha scoperti nella storia del cosmo a cui apparteniamo congelata da sempre nell'eterno presente miller è giunto per primo a sentire la sua scoperta vi è giunto per primo perché nella sua penultima vita ha studiato profondamente i fenomeni elettrici